Il più grande talento Il più grande talento della letteratura contemporanea Certo, cosa pensa di rappresentare oggi Marco Bazzoni con la sua opera School of Bats nel panorama letterario italiano? Sicuramente è un punto di riferimento per tutti Questo libro potrebbe tranquillamente diventare un testo scolastico Testo scolastico? Sì, certo, non pecco di modestia se penso che questo libro un giorno possa sostituire per esempio la Divina Commedia, per dirne una Mi sembra dunque chiaro che stia puntando al premio strega No, 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 premio strega Il Nobel, quello sì Con queste ottime premesse, quanti libri pensa di vendere? Tre Quattro Forse quattro, sì Quattro? La letteratura è una cosa per pochi Stop! Sì, ma non facciamo prima fotocopiarli sti libri Tanto dobbiamo fare quattro Cioè, tutto sto tempo per la stampa Sì Sì Grazie a tutti.